Allora arriviamo alle 9.42 minuti e in realtà nell'ultima parte di trasmissione prima di arrivare a quest'ultima sezione di play, la trasmissione che state ascoltando qui su RBI, ho un po' preparato il terreno all'argomento di cui vi sto parlando perché la mobilitazione che vado a raccontarvi non è strettamente legata alla manovra di bilancio ma chiaramente gli elementi che ci sono dentro fanno parte anche delle riflessioni più ampie che stanno portando avanti. Gli universitari, vi abbiamo già raccontato diverse volte della mobilitazione in corso fin dalla scorsa primavera appunto ma adesso ci sono degli elementi in più da raccontare come un lavoro di indagine rispetto agli studenti fuorisede che sono un po' il nocciolo della questione anche se non l'unica questione. Quindi tante cose di cui raccontare per farci raccontare un po' meglio raggiungiamo per l'esecutivo nazionale dell'Unione degli Universitari Simone Agutoli, benvenuto qui su Play. Buongiorno, grazie mille per l'invito. Allora si parla di un lavoro di indagine, un lavoro di indagine che avete svolto proprio voi se ho ben capito rispetto appunto alla situazione degli studenti fuorisede, quindi coloro che studiano in un'altra città rispetto a quella di origine quindi devono trovare un alloggiamento. Questo è il problema principale mi pare di capire, però insomma voglio lasciare un po' la parola a te che cosa avete scoperto da questa indagine? Proprio così, noi abbiamo raccolto a partire da giugno 20.000, quasi 20.000 questionari da tutta Italia. L'abbiamo reso possibile grazie anche al supporto della Cigiene del Sunia che ci hanno affiancato prima nell'elaborazione dell'indagine poi nella diffusione e nell'analisi della stessa e da queste 20.000 risposte sono emersi dei dati molto allarmanti. Il focus come dicevi era proprio quello sullo studente fuorisede o meglio più in generale sulla condizione abitativa della popolazione universitaria. Non è vero che noi abbiamo anche indagato chi magari non è riuscito a trasferirsi perché le principali motivazioni per cui dal questionario emerge non è possibile trasferirsi sono proprio le condizioni economiche, la difficoltà a trovare alloggio, gli alloggi non dignitosi. Ovviamente il focus come dicevi è stato sugli studenti fuorisede e sugli affitti. Dall'indagine scopriamo come oggi una camera singola in Italia a costi solo di affitto in media al mese 350 euro al mese al quale bisogna aggiungere però spese condominiali e bollette che portano questa cifra a 430 euro, 430 euro al mese. Si tratta di cifre evidentemente insostenibili per la maggior parte delle famiglie inoltre va considerato che è un dato molto disomogeneo sul territorio nazionale. Non vi stupirà a scoprire come Milano sia la città più cara d'Italia, batte ogni record. Noi stimiamo che spese incluse una camera singola si aggira intorno in media a 650 euro al mese, seguita in classifica sul podio da Roma e Bologna entrambi intorno a 500 euro al mese. In realtà abbiamo indagato anche altri aspetti, ben accenno un paio, se dopo vorrete ovviamente potremo approfondirne altri, ma questi due ultimi temi che volevo porre alla vostra attenzione è il tema del nero, purtroppo molto diffuso, secondo il nostro campione che probabilmente sottostiva un po' il dato, però insomma secondo il nostro campione il 5,5% dei rapporti sono totalmente in nero, è quello aggiungere però circa un 10% che presenti irregolarità parziali, ad esempio il classico caso in cui nel contratto dico mi da paghi 200 euro al mese o dichiaro al fisco 200 euro al mese e poi in realtà sotto banco mi passi altri 100 euro. Questo percentuale porta le irregolarità totali o parziali a circa il 15%, con punte a Napoli. A Napoli un affitto su quattro è completamente in nero. Il secondo dato che volevo portare alla vostra attenzione è la difficoltà estrema sia nel trovare alloggio, sia nel pagare l'affitto. Due studenti su tre ci hanno detto di aver fatto moltissima fatica a trovare alloggio, mentre uno studente su tre ci dice di essere in grave difficoltà economica a pagare tutte le spese dell'alloggio, quindi a far fatica ad arrivare a fine mese proprio per i costi insostenibili di affitto, bollette e spese condominali. Questi sono diversi punti già cruciali di per sé. Voi appunto state portando avanti questa mobilitazione che è proprio, come dicevo, incentrata sul tema del caro vita, soprattutto per i fuorisede. Poi ci sono anche le questioni, ad esempio, sul supporto psicologico. Insomma, sono tanti temi che state portando in piazza, però è nel momento in cui si parla di manovra di bilancio, quindi proprio del momento in cui lo Stato e il Governo, assieme al Parlamento, decidono come investire, come finanziare, come spendere. Chiaramente è un momento particolarmente cruciale. Quindi mi immagino sia anche per questo che voi avete portato avanti questo lavoro di indagine, per non basarvi soltanto, tra virgolette, sulla vostra percezione, come dire, a pelle della questione, ma per avere dei dati specifici da presentare anche alle istituzioni. Ed è quello che è stato fatto in questi giorni. Avete avuto modo di dialogare con ministri legati all'ambito universitario e mi dicevi però già fuori onda che insomma non è stato un incontro molto soddisfacente. Proprio così. Noi l'indagine l'abbiamo fatta proprio perché vogliamo portare dati e proposte. Noi crediamo nell'utilità anche di fare proteste, l'abbiamo fatta addirittura sotto Montecitorio, dopodiché però vogliamo analizzare la situazione in maniera il più possibile analitica e puntuale e fare delle proposte. Quattro. Abbiamo lanciato con l'indagine intervenire sul fondo aiuto fuorisede, sulle borse di studio, sulla regolamentazione degli incentivi fiscali ed infine investire sulle alloraggi pubblici, invertendo la rotta del PNRR. Come dicevi giustamente in realtà questo lavoro di indagine si inserisce all'interno di un lavoro più complesso ed ampio, sul caro vita, sul caro studio. Infatti è evidente che anche per via dell'inflazione oggi in Italia studiare costa tantissimo. Ovviamente la spesa principale che incide sui fuorisede è l'alloggio, ma non è l'unica. Pensiamo al tema del caro Libri ad esempio, che è stato molto all'attenzione delle cronache verso fine estate, ma pensiamo anche alla salute mentale. Oggi il servizio pubblico non offre una reale tutela della salute mentale, se non purtroppo poco, pochi, sono troppi pochi psicologi assunti dall'SSN e spesso bisogna rivolgersi quindi a psicologi privati che richiedono anche 50, 60, 80 euro a seduta. Tutti questi temi insieme fanno sì che oggi in generale un giovane, una famiglia italiana, uno studente spenda veramente molto. E quindi nell'incontro che abbiamo avuto noi come unione dell'universitario abbiamo incontrato ieri sera la ministra Bernini dell'Università della Ricerca, i nostri compagni della rete degli studenti medi hanno incontrato invece il ministro Valditara dell'Istruzione del Merito, abbiamo provato a portare loro delle proposte. Il problema ci sembra purtroppo che i giochi siano già chiusi, cioè che il MES ha già fatto i calcoli, la Presidente del Consiglio del Ministro ha già deciso più o meno dove mettere i fondi, quindi tant'è vero che anche da ieri sera leggeravamo nuovamente come l'accordo di maggioranza stia chiudendo le porte anche agli emendamenti del Parlamento, per cui ci sembra francamente che i giochi siano già fatti e questo veramente ci dispiace, ci fa arrabbiare, perché allora cosa serve l'incontro e il confronto con le parti sociali? Se noi andiamo e ci dicono vabbè ma a me fa stanzato queste risorse che volete farci, si sentiamo presi in giro, tant'è vero che noi rilanciamo il 17 novembre e manifesteremo nuovamente perché chiediamo un impegno maggiore in legge di bilancio. In Italia, chiudo, lo 0,7% del PIL viene investito in istruzione terziaria, la media europea dell'1% e la media dell'Ox del 1,1%, qualcosa che non c'è, evidentemente, qualcosa che non funziona, evidentemente c'è. Chiaro, chiaro e questo tra l'altro mette un po' a confronto, anzi in scontro tra di loro la questione se vogliamo ideologica che viene portata avanti dalle parti politiche e poi la questione pratica, cioè la questione delle vostre richieste viene, come dire, derubricata ad una questione puramente di ragioneria, non ci sono i soldi quindi non li mettiamo, però poi dall'altro punto di vista si spinge ad esempio sul discorso, diciamo anche della natalità, non voglio far ruotare tutto attorno alla natalità, ma visto che è un tema di cui parla moltissimo il governo, ragioniamoci, è chiaro che se studiare costa troppo, se non si riesce a studiare, se non si riesce poi magari a trovare un lavoro adeguato dopo aver studiato, è chiaro che anche la decisione di prendere fili, tra tante altre decisioni da prendere, verrà messa un po' in secondo piano, quindi io vedo un po' un contorcio di cui to mentale anche all'interno di questo tipo di ragionamento, ma immagino insomma che di non dirvi nulla di nuovo, quindi proviamo a ragionare un po' meglio su quelle vostre proposte che hai accennato appunto per provare a affrontare questo tema, sì spendere di più, questo è chiaro, questo è quello di cui abbiamo bisogno, spendere come però, di cosa avete bisogno e di cosa abbiamo tutti bisogno, perché chiaramente poi la salute degli universitari è qualcosa di cruciale per tutti noi, però insomma quali sono le necessità e i luoghi in cui investire? Noi abbiamo delle proposte molto puntuali, addirittura delle proposte di legge depositate, dicendo chiaramente al Parlamento e al Governo secondo noi su dove bisogna intervenire, ad esempio sulla salute mentale che anche tu citavi, noi abbiamo depositato alla Camera, al Senato grazie al supporto dei gruppi dell'opposizione, una legge che si chiama Chiedimi come sto, che serve per istituire all'interno di scuole e università dei presidi psicologici, con dei professionisti, con delle linee guida uniformi a livello nazionale, per cui abbiamo dei professionisti che possono affiancare gli studenti nelle difficoltà che possono emergere nel proprio percorso di studio, nel proprio percorso di vita, è evidente che anche questo necessità di soldi, però crediamo che oggi la salute mentale debba essere equiparata alla salute fisica, mentre purtroppo nel nostro paese Italia hanno colpito specialmente la salute mentale perché si è voluta sacrificarla, perché forse era più facile tagliare su quella, però ne stiamo rimettendo e i casi tristi di cronaca ce lo confermano. Volevo però evidenziare un altro aspetto, cioè è vero che investire nell'università evidentemente costa, che istruzionare gli studi universitari costa. Porto un esempio le borse di studio, è evidente che senza stanziamenti le borse di studio non si pagano da sole, questo è chiaro. Detto ciò in realtà noi indichiamo anche alcuni posti da cui prendere le risorse, si parla in questi giorni di cedolare secca, allora noi per carità non è che vogliamo penalizzare qualcuno, per carità del cielo, dopodiché dobbiamo anche chiederci oggi se tutte queste agevolazioni fiscali che sono presenti sul mercato dell'allocazione abbiano senso. Noi crediamo che le agevolazioni fiscali debbano essere concentrate verso chi fa gli affitti a carone concordato, cioè se un proprietario mi affitta un appartamento, una camera a un prezzo calmerato che è il frutto di un accordo territoriale, così prevede la legge, allora è evidente che è giusto incentivare il più possibile, farli pagare meno tasse, perché quel proprietario svolge una funzione sociale, ha una remunerazione, per carità giustissimo, però magari rinuncia a un pezzettino di remunerazione per offrire un'abitazione a uno studente che altrimenti non riuscirebbe a studiare, su questo siamo super d'accordo, dopodiché oggi pensare che ci sono magari proprietari che affittano una camera a 1000 euro al mese e che hanno le agevolazioni fiscali al 21%, cedolare secca, quindi non entra nella base imponibile IRPEF, ci sembra assurdo, ricordiamoci che oggi l'aliquota minima dell'IRPEF al 23%, c'è parole povere, un operaio paga il 23% di tasse, un proprietario che affitta il 21%. Sono aspetti che secondo noi si possono aggiustare, dal quale si possono anche recuperare risorse da non buttare via, ma da spostare verso quei meccanismi che promuovono il diritto allo studio, che sostengono gli studi universitari. L'ultimissima cosa, il PNRR, il PNRR secondo noi va rivisto, non è possibile che oltre un miliardo di euro stiano andando in fretta e furia, facendo un pasticcio, diciamo, ce l'ho tanto che l'Unione Europea dovrebbe intervenire sulla terza tranche, dandoli ai privati, chiedendo in cambio pochissimo, pochissimo, perché soltanto il 20% dei posti sarà destinato al diritto allo studio solo per pochi anni, non ci va bene, va cambiato il PNRR, bisogna investire nel diritto allo studio, aiutare gli studenti più bisognosi. Chiaro, chiaro, insomma, i punti sono molto chiari, non vi si può senz'altro tacciare di ambiguità rispetto a queste proposte, però, insomma, come avranno capito senz'altro gli ascoltatori e gli spettatori, noi avremmo dato giusto un'infarinata di quali siano i temi principali, i fili da seguire sono moltissimi e quindi rapidamente per chiudere ti chiedo come si può fare a seguirvi, voi siete molto attivi chiaramente nel comunicare tutti i vostri punti di vista e quindi dove li si può trovare? Sicuramente sui social, su Facebook, su Instagram, anche su X, Twitter usiamo molti social, stiamo attivando tra l'altro un nuovo sito internet che presto sarà operativo, oltre che insomma cerchiamo anche di avere una buona presenza sui media, sui mezzi di comunicazione e quindi grazie anche veramente alla vostra radio che non è la prima volta che ci dà attenzione visibilità e questo per noi è molto importante in tale che la voce degli studenti abbia più possibile visibilità e arrivi al governo, arrivi all'opinione pubblica. Benissimo, lo facciamo assolutamente volentieri anche perché come dicevo non è una questione soltanto di università, già basterebbe ma chiaramente la salute di chi va all'università, salute da tutti i punti di vista economica, mentale eccetera eccetera è un elemento, un pilastro della nostra società e quindi se ce la dimentichiamo ci rimettiamo chiaramente tutti. Grazie mille davvero a Simone Agutoli per questo racconto, chiaramente vi seguiremo ancora, insomma in bocca al lupo. Grazie, grazie mille, buon lavoro.